Durante il periodo in cui padre Pio si trovava nel commento di Venafro quando ancora erano frate che doveva ancora diventare prete, nel periodo esattamente tra novembre e dicembre del 1911, padre Pio soffriva di una stranissima malattia che lo costringeva a letto. E per circa 40 giorni non si cibò che della sola santa comunione, la santa eucaristia che il padre Agostino da San Marco in Lamis gli portava direttamente a letto. Ogni dì, dopo aver preso l'ostia, il padre aveva le estasi, andava in estasi e in una di quelle estasi un giorno le apparve il piccolo Gesù Bambino che aveva i segni della passione, quindi le stigmate, le ferite che avrebbe subito all'età adulta. Quindi padre Pio disse che il piccolo aveva le stigmate e gli sorrideva il piccolo Gesù Bambino e gli domandò perché Cristi sei così piccino stamattina? E poi padre Pio chiese al suo angelo custode di salutare il piccolo Gesù Bambino e di dargli un bacio sulle piaghe e disse padre Pio che in quell'occasione Gesù Bambino gli parlò in francese. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!